cari amici per prima cosa venerdì ho avuto l'onore di intervistare la dottoressa oriana mariani forni e a brevissimo uscirà questa intervista mi raccomando non perdetevela perché prima di tutto è un'intervista in esclusiva ed interessantissima ma soprattutto perché tutti devono ascoltare le parole e il messaggio di questa donna meravigliosa di questa italiana coraggiosa che ha denunciato il gip di agrigento e i parlamentari a bordo della sea watch passando invece all'argomento di oggi devo dire che la campagna congiunta di pd ed unione europea per la beatificazione di carola racchete procede con la massima visibilità possibile visibilità garantita da giornalisti quotidiani televisioni ma anche dal web insomma siamo di fronte all'ennesima campagna anti italiana architettata promossa ed incoraggiata dai soliti parlamentari di sinistra una gigantesca macchina di propaganda che muove che può contare su montagne e montagne di soldi e tutto questo con il solo scopo di sovvertire la realtà l'ordine delle cose e i principi fondamentali di giustizia e sovranità una vera e propria macchina di menzogne e falsità e dietro a tutto questo c'era un vero e proprio piano che in questo video sveleremo nei minimi dettagli e quindi non perdiamo non perdiamo tempo e iniziamo subito ascoltando le dichiarazioni di carola racchete alla procura di agrigento era un gommone in condizioni precarie e nessuno aveva il giubbotto di salvataggio non avevano benzina per raggiungere alcun posto non avevano esperienza nautica ne avevano un equipaggio peccato solo che la racchete mente e le prove le ha pubblicate la sua stessa ong sulla sua pagina twitter in questa immagine si vedono che il gommone è completamente gonfiato e non ha nessun danno o perdita non c'è nessuno in pericolo di vita o che ha bisogno o in emergenza medica e l'autorità sono state avvisate e stanno rispondendo stanno intervenendo e quindi il trasferimento di queste persone è ingiustificato anche da questa foto si vede chiaramente che il gommone è perfettamente gonfio e infine questa è nell'ultima foto dove si vede chiaramente che ci sono almeno otto tanniche di carburante da 20 litri e che ci sono anche tutti i giubbotti di salvataggio che evidentemente i migranti a bordo si sono levati tutte queste informazioni sono state confermate dalla guardia costiera libica western sector zaiwa quindi la racchete mente perché c'erano sia i giubbotti di salvataggio c'erano alcune tanniche di benzina ed infine il gommone navigava perfettamente e non aveva nessun problema di navigabilità poi la racchete aggiunge che però la guardia costiera libica non sarebbe intervenuta subito immediatamente per coordinare i soccorsi ma anche qui caro la racchete mente come è stato confermato dalla stessa guardia costiera libica abbiamo soccorso prima che iniziassero le operazioni di recupero da parte della ONG poi c'è una telefonata molto molto sospetta che è partita da tripoli ed è stata ricevuta dal centro di soccorso della guardia costiera di roma chi chi chiamava cercava la sea watch ma aveva sbagliato numero alle 9 e 53 del 12 giugno l'aereo colibri dei piloti volontari francesi finanziato dalla sea watch avvista un gommone a circa 35 40 miglia dalla costa in zona sar di tripoli ma come avrà fatto questo aereo a trovare questo minuscolo gommone in mezzo al mare e già è come avrà fatto allora ora vi spiego una cosa che molti non sanno i gommoni pieni di migranti nascono come i funghi con la differenza che i funghi compaiono all'improvviso in mezzo al bosco invece i gommoni carichi di migranti compaiono all'improvviso in mezzo al mare sì sì non sto scherzando compaiono dal nulla beh poi c'è un'altra domanda da farsi chissà come mai hanno atteso almeno un'ora prima di dare i soccorsi non sarà che hanno utilizzato questo lasso di tempo per consentire alla sea watch di avvicinarsi il più possibile a questo gommone e così arrivare prima della guardia costiera libica beh basti pensare che la racchete ha addirittura lanciato i suoi gommoni veloci per scippare nel vero senso della parola i migranti alla guardia costiera libica e tutte queste cose sono state confermate dalla stessa guardia costiera libica che poi fermiamoci un attimo e facciamo un ragionamento insieme allora se qualcuno si trovasse di fronte ad un vero naufrago cioè una persona che è realmente naufragata e non ad un carico umano messo su un gommone appositamente e probabilmente messo in quel punto affinché qualcuno magari suo appuntamento se lo vada a prendere stiamo parlando di due cose completamente diverse quindi se chiunque di noi in mezzo al mare trovasse un naufrago cosa farebbe beh lo cercherebbe di portare in salvo dove lo possano soccorrere il più presto possibile quindi ovviamente lo porterebbe alla costa più vicina al porto più vicino e nel caso della sea watch la sea watch era 49 miglia dalla libia ora ponendo che non uno dica vabbè non li porto in libia perché ho paura c'è la guerra però era a 69 chilometri dalla tunisia quindi avrebbe chiunque avrebbe portato un naufrago un vero naufrago lo avrebbe portato al limite in tunisia perché in tunisia sono attrezzati hanno gli ospedali possono prestare tutti i soccorsi del caso e invece cosa è successo questi che non erano naufraghi ma un carico umano preorganizzato questa signora racchette che poi sappiamo che c'è dietro la racchette la sea watch soros e miliardi e miliardi tutta questa campagna di propaganda ha deciso scientemente è stata una cosa volontaria ha voluto portarli in italia ed infrangere ogni regola del nostro stato inoltre alcuni parlamentari come frato gli anni e come faraone hanno confessato più volte di essere stati in contatto con la sea watch molto tempo prima che la stessa nave si avvicinasse al porto di lampedusa e questo prova chiaramente che la sea watch non è rimasta 14 giorni gironzolando facendo avanti indietro davanti al porto di lampedusa per caso non ha trattenuto il suo carico umano per 14 giorni perché non aveva altra scelta no tutto questo è frutto di un piano preciso organizzato e concordato dietro a tutto questo c'è una strategia politica schifosa permettetemi di dire schifosa ma c'è una strategia politica concordata con alcuni esponenti di questa sinistra italiana poi ci sarebbero state delle telefonate sospette tra la procura la sea watch e i parlamentari a bordo della stessa sea watch infine l'ordinanza con la quale il jeep vella non ha convalidato l'arresto di carola racchete è una vera e propria aberrazione della giustizia l'ordinanza è stata smontata e svergognata da più parti alcune di queste veramente da persone anche molto molto autorevoli insomma prima hanno sovvertito l'ordine delle cose distrutto la difesa dei nostri confini e messo in pericolo gli uomini della guardia di finanza attraverso un'operazione precisa e pianificata e dopo hanno esultato per questa ordinanza che umilia la giustizia la guardia di finanza e il popolo italiano non soddisfatti pretendono anche che l'opinione pubblica stia dalla loro parte pretendono di censurare la giusta giustissima rabbia e indignazione degli italiani e però nel frattempo non perdono occasione di idolatrare carola racchete in prima pagina come se fosse l'eroina del millennio ecco questa è la tolleranza della sinistra perché questi signori che predicano la tolleranza e l'accoglienza non si schierano mai con gli italiani però sono sempre pronti a schierarsi dalla parte dei rom dalla parte dei migranti e spesso anche dalla parte dei delinquenti e poi cosa fanno si gonfiano la bocca con questa parola tolleranza quando loro stessi sono intolleranti verso gli italiani che la pensano in modo diverso diversamente da loro spesso e volentieri difendono l'indifendibile ma sono sempre pronti a scaricare odio violenza insulti rabbia contro gli italiani che amano il loro paese e in questo sconvolgimento della realtà e dell'ordine delle cose arriviamo delle cose veramente inconcepibili assurde la racchete ha denunciato matteo salvini e ha chiesto per di più di chiudere le sue pagine social sentiamo cosa ha dichiarato a questo proposito il suo avvocato temiamo per l'incolumità di carola se una persona viene indicata come un'assassina in libertà come una delinquente come un personaggio da mettere all'indice poi non si sa quali possono essere le reazioni e a proposito del sequestro degli account social di salvini ci sono già delle sentenze non è sequestrabile un quotidiano online con direttore responsabile ma lo sono blog e pagine social questo è veramente inconcepibile ma siccome al peggio non c'è fine e queste persone veramente non hanno vergogna il sindaco di napoli dei magistri si ha organizzato un corteo navale contro contro salvini ovviamente in favore dei porti aperti e per inneggiare a questa eroina no l'eroina di de magistri si è diventata carola racchete con tutti i problemi di napoli tanto per dire invece leo luca orlando che è sindaco di palermo che evidentemente anche palermo non ha nessun problema cosa vuol fare vuole denunciare salvini poi molti di voi nei commenti mi hanno chiesto ma cosa fa mattarella e cosa volete che faccia mattarella il presidente della minoranza degli italiani cosa fa mattarella invece che difendere la giustizia invece che difendere la legalità ai nostri confini invece che schierarsi difendere dal nostro governo il nostro ministro dell'interno cosa fa bene cari amici il consiglio superiore della magistratura che come tutti sappiamo è presieduto da sergio mattarella ha chiesto di aprire una pratica a tutela del gip vella la richiesta è arrivata dal comitato di presidenza di palazzo dei marescialli mercoledì scorso era partita infatti l'istanza con la firma di tutti i consiglieri togati del csm al centro della pratica gli attacchi e le critiche ricevute dal gip dopo la sua decisione da parte di diversi esponenti del mondo politico tra questi il ministro degli interni matteo salvini adesso la prima commissione dovrà esaminare e discutere la pratica di fatto dunque il consiglio superiore della magistratura si schiera dalla parte del gip e prova a metterla al riparo dagli attacchi di questi giorni insomma dopo i recenti scandali che hanno coinvolto il cuore del csm la magistratura numerose procure il csm invece di fare una riflessione profonda di prendere dei provvedimenti immediati e importanti a tutela della giustizia e della legalità cosa fa il csm si preoccupa di tutelare il gip vella invece che indagarne gli evidenti errori le evidenti le evidenti contraddizioni e anche indagarne il comportamento e quindi poi facendosi forza anche di questo comportamento del presidente della repubblica sergio mattarella alcuni parlamentari del pd fanno delle proposte oscene come come faraone che ha proposto la cittadinanza onoraria di palermo per carola racchete nel giorno in cui vengono recuperati 72 corpi in mare uomini e donne che scappavano dalla fame dalla guerra il comune di parigi concede la cittadinanza onoraria a carola grande donna capitana coraggiosa caro leoluca orlando facciamo diventare carola cittadina di palermo certo il pd servo di macron e la che di macron non avrà voluto essere da meno rispetto al prode sindaco di parigi che ha deciso di conferire la medaglia gran vermel cioè la più grande onoreficenza di parigi ebbene la conferirà indovinate un pochì alle due ai due comandanti donna della sea watch e gliela conferirà perché hanno salvato delle vite in mare aggiungendo le seguenti motivazioni mentre le due operatrici tedesche sono ancora perseguite dalla giustizia italiana la medaglia vuole simboleggiare la solidarietà e l'impegno di parigi per il rispetto dei diritti umani non solo il comune di parigi ha anche annunciato che il consiglio di parigi ha votato l'attribuzione di 100.000 euro a sos mediterranee per una nuova missione di salvataggio in mare dei migranti non che ci sia da stupirsi è infatti la portavoce del governo di macron si era affrettata a definire inaccettabile il comportamento di del ministro salvini nei confronti di carola rachete è già per la francia che sottomette e sfrutta 14 paesi africani con il franco sefa per la francia che ha prodotto inventato prove false per poter poi uccidere ghettapi e spalancare così le porte della libia ai migranti e dai trafficanti di esseri umani per la francia che piazza i suoi uomini a capo dei governi africani attraverso operazioni sanguinarie dei servizi segreti colpi di stato ed assassini per la francia il comportamento di matteo salvini è inaccettabile è inaccettabile sarà ma forse il sindaco di parigi non si ricorda o meglio fa finta di non ricordarsi che fu proprio la francia a non rispondere alle richieste di carola rachete che chiese alla francia un posto sicuro per poter poter dove poter sbarcare i migranti e la francia non si degnò nemmeno di rispondere a queste richieste della rachete quindi la francia ha chiuso i suoi porti alla sea watch ma il cattivo è salvini e la rachete va premiata e come se non bastasse quei geni della sinistra unitaria europea hanno ben pensato di chiedere al parlamento europeo di invitare carola rachete insomma anche un bambino capirebbe che siamo di fronte ad un piano chiaro anche se è stato grottescamente architettato ed è stato interpretato da attori squallidi tutti nessuno escluso un piano degno del film del film i soliti ignoti con la differenza che in quel film c'erano dei grandi attori che interpretavano il grottesco suscitando delle risate risate che questi nemici del popolo italiano questi servi di soros con le mani sporche di marmellata e non solo non riusciranno mai né a comprendere né tantomeno a suscitare cari amici per oggi mi fermo qui ma all'elenco dei servi di soros potrebbe continuare molto molto a lungo ed è evidente che il loro nemico numero uno è proprio matteo salvini così come è evidente che i nemici di matteo salvini si annidano ben dentro anche alle nostre istituzioni salvini inoltre ha ricevuto più di 100 minacce di morte e numerosi proiettili l'ultimo proprio due giorni fa in questo momento i nemici di salvini sono i nemici degli italiani e io sto con l'italia io sto con i miei compatrioti che si ostiano ad amare questo paese e a difendere i suoi valori fondanti di cultura e di civiltà gli stessi valori che soros con la complicità della sinistra vorrebbe cancellare e sostituire un saluto dal vostro matteo di micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio Grazie mille